Sale la preoccupazione per i furti che si stanno registrando ormai da diversi giorni nel cilento interno. La quiete che caratterizza questi luoghi è stata messa a dura prova dai soliti ignoti, autori di numerosi colpi, tanto da indurre alcuni residenti ad organizzare ronde notturne. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, gli ultimi colpi tra Casalvelino e Piano Vetrale di Orria. Nel paese dei Morales, i malviventi hanno preso di mira diversi depositi e garage, rubando attrezzature agricole ed altro materiale. Per fortuna i malviventi sono rimasti bloccati in un vicolo del centro storico ed hanno dovuto abbandonare l'area furtiva per fuggire a piedi. Ma questi della notte scorsa non sono gli unici furti avvenuti in cilento. Paura tra Maiano Vetere e Stio, dove ormai si segnalano colpi da diversi giorni e chissà che ad agire non sia stata la stessa banda. Nei giorni scorsi a sorprenderli è stato l'assessore del comune di Stio, Domenico Feola. Che in piena notte, nel vedere due persone a bordo di una Renault Modus grigia, con fare sospetto, ha iniziato ad inseguirli. I presunti ladri ad un certo punto, finiti in trappola, hanno abbandonato l'auto e sono scappati a piedi. In un altro caso i malviventi sono stati invece sorpresi mentre scavalcavano il cancello di una villetta di località Bosco, all'interno del centro abitato di Maiano Vetere, dove però il proprietario, facendo scattare l'allarme, li ha messi in fuga. Sui furti indagano i carabinieri delle stazioni di Stio e Monteforte Cilento, coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del tenente colonnello Santepicchi. Intanto i cittadini si sono organizzati per monitorare il territorio ed evitare altre brutte sorprese.